ciao ragazzi siamo a parlare delle prospettive incerte dei democratici 1850 1857 stiamo facendo questo lungo viaggio non è meno tanto lungo verso l'unità d'italia l'azione dei democratici stiamo parlando del del regno sabaudo risulta debole contraddittoria rispetto all'incisività con cui si muove il piemonte di cavour ferrari e cataneo propongono di costruire una federazione di repubbliche democratiche carlo pisacane è favorevole a un'azione rivoluzionaria che si ponga come obiettivi sia politici sia sociali fino alla costituzione di una repubblica centralizzata addirittura mazzini rimane fedele ai suoi progetti dar vita a una o più insurrezioni che dopo una guerra di liberazione nazionale a vera e propria rivoluzione portino alla convocazione di una costituente vedete nelle immagini giuseppe ferrari e cataneo le difficoltà di giuseppe mazzini le iniziative organizzate da mazzini nel lombardo veneto furono sistematicamente scoperte e represse nel sangue dagli austriaci il fallimento più cocente fu quello di milano nel febbraio 1853 naufragato a causa di una totale disorganizzazione perché mazzini ci si dava da fare ce la voleva fare ma non si sapeva organizzare alla fine era tutto fumo e nienta col rosso le critiche ai metodi e alla leadership di mazzini diventarono sempre più forti anche da parte di suoi sostenitori come daniele manin manin dopo la fine della repubblica veneta era andato in esilio a parigi da qui nel 1855 fa pubblicare alcuni da alcuni organi di stampa la dichiarazione nella quale si dichiara repubblicano ma ritiene che il primo obiettivo non sia la repubblica ma sia l'indipendenza e l'unificazione dell'italia anche sotto vittorio emanuele secondo anche accettando che vittorio emanuele secondo sia re d'italia quindi si ristacca da mazzini che voleva la repubblica e basta manin espresse idee condivise da molti ambienti dell'immigrazione politica e ottenne la simpatia anche di giuseppino garibaldi nello stesso anno attaccò mazzini per la sua dottrina dell'assassinio politico mazzini era un brigadista antelittera ma lui diceva dobbiamo pigliare questi politici li dobbiamo ammazzare dobbiamo ricattare lo stato e dobbiamo fare la democrazia con la rivoluzione cavur volle sfruttare a vantaggio della sua politica queste divisioni tra i repubblicani che volevano la repubblica e i repubblicani cheppure erano repubblicani come manin ma che si accontentavano di un passaggio graduale verso la repubblica unificando perlomeno l'italia sotto vittorio e manuele secondo contattò manin garibaldi cavur attraverso l'esule repubblicano siciliano giuseppe la farina questo barbone che vedete qui nella foto attraverso questi rapporti tra cavur manin garibaldi eccetera viene fondata la società nazionale italiana guidata da la farina dal barbone la società nazionale italiana doveva coordinare l'azione dei repubblicani filosabauti che volevano la repubblica ma che si accontentavano di fare il regno d'italia sotto vittorio emanuele in piemonte operava legalmente questa società con il sostegno economico del governo di cabur e aveva un proprio giornale e negli stati italiani diversi dal piemonte fu un'organizzazione segreta che attraverso i suoi corrispondenti diffondeva opuscoli e volantini di propaganda patriottica quindi c'era la carboneria la gioia in italia eccetera eccetera che era una società segreta e cavur disse ma perché non facciamo una società palese sotto il nostro controllo segreta negli altri stati eccetera e così si creò questa società nazionale italiana che di fatto fu un elemento deviato del governo piemontese sabaudo per poter tenere sotto controllo i rivoluzionari erano 300 erano giovani e forti e sono morti chissà quante volte avrete sentito questa poesia della spicolatrice di saprio parliamo di mazzini mazzini collabora con carlo pisacane anche se qualcuno cioè pisacane era un socialista cioè socialista all'epoca era come dire comunista perché socialista era quelli che volevano la divisione di tutto la messa in comune di tutto eccetera mazzini no mazzini era un borghese ricco non voleva assolutamente al socialismo però pisacane e mazzini organizzarono insieme delle iniziative insurrezionali per ottenere l'indipendenza dell'italia il 25 giugno 1857 pisacane alcuni compagni dirottano il piroscofo cagliari che era partito da genova lo dirigono all'isola di ponza ponza vicino roma dove liberano i detenuti dal carcere alcuni si aggregano alla spedizione circa 300 membri di questi detenuti e la spedizione sbacca a sapri è nella bassa campania quasi quasi basilicata calabria provincia di salerno non è vicino salerno come dice qui è abbastanza lontano da salerno però provincia di salerno sarà 100 chilometri 120 chilometri cioè non è vicino comunque perché fa questa spedizione pisacane perché vuole far sollevare la popolazione contro i borboni per ottenere finalmente l'unità d'italia e l'iniziativa di pisacane finisce in un massacro i contadini non danno all'azione di pisacane nessun sostegno l'esercito borbonico sbaraglia gli insorti a padula sempre da quelle parti nel cilento il 2 febbraio 1847 da qui c'è la famosa poesia me ne andavo un mattino a spicolare quando vedi una barca in mezzo al mare era una barca che andava a vapore e alzava la bandiera tricolore che si intitola la spicolatrice di sapri dove dice quel verso erano 300 erano giovani e forti e sono morti ci furono altre iniziative di mazzini a livorni a genova sempre fallimentari perché come abbiamo detto mazzini non era una testa calda un tipo coraggioso aggressivo ma che non si sapeva organizzare che fece capurro dopo il congresso di parigi dal congresso di parigi abbiamo detto il congresso di parigi quello in cui da cui il piemonte venne fuori forte come media potenza europea capur uscì convinto da questo congresso che solo una radicale modifica dell'equilibrio europeo sancito dal congresso di vienna avrebbe permesso al piemonte di eliminare il piemonte l'austria dall'italia centro settentrionale in pratica l'austria aveva grande potere ancora in italia tutti il lombardo veneto era in mano all'austria il piemonte il re di piemonte vittorio emanuele e capurro pensavano no non riusciremo mai a liberare l'italia da questi stranieri se l'equilibrio del congresso di vienna non viene meno quindi per capurro era necessaria mantenere viva l'agitazione patriottica e ma dall'altra assicurarsi l'appoggio dell'unica grande potenza europea che ce l'aveva con l'austria che poteva appoggiarla contro l'austria che era la la francia di napoleone terzo un'accelerazione decisiva l'alleanza tra francia e piemonte giunse dall'attentato organizzato dal repubblicano romagnolo felice orsini che voleva uccidere napoleone terzo come principale ostacolo all'unificazione italiana visto che aveva determinato la fine della repubblica romana del 1849 l'attentato di felice orsini provocò otto morti ma non riuscì a uccidere napoleone terzo orsini fu catturato uccisa la ghigliottina insieme a un compagno e scrisse due lettere a napoleone terzo credendogli di aiutare la causa della liberazione dell'Italia dell'unità d'Italia l'imperatore appassionato dal impressionato dall'attentato e colpito da queste lettere considerò per la prima volta l'idea di guidare la rinascita dell'Italia la trasformazione geopolitica dell'Italia invece che subirla perché se l'Italia faceva da sola comunque meglio controllare questa cosa questa rivoluzione da parte della Francia che subirla vederla come bella è fatta chissà che poteva succedere se l'Italia si liberava da sola ci andava di mezzo alla Francia alla fine nel luglio 1858 Cavour e Napoleone terzo si incontrano a Plombier per concludere una alleanza gli accordi ipotizzavano una sistemazione allora dopo l'attentato di orsini Cavour si convinti cioè Napoleone terzo finalmente si convinti ad appoggiare il Piemonte si incontrano a Plombier fanno degli accordi decidono tra di loro chiacchierando dividiamo l'Italia una volta liberata in tre stati Regno dell'Alta Italia Piemonte Lombardo Veneto Emilia Romagna sotto i Savoia in cambio di inizia e Savoia ai francesi Regno dell'Italia centrale Toscana e lo Stato della Chiesa e Regno dell'Italia Meridionale ex Regno delle Due Sicilie il Papa avrebbe mantenuto la sovranità su Roma e zone di Mitrofe sapete che la Francia è stata sempre vicina e amica del Papa quindi non osava pensare a un'unità d'Italia che togliesse lo Stato della Chiesa al Papa con quel Papa avrebbe mantenuto la sovranità su Roma e gli sarebbe stata offerta la futura Presidenza della Confederazione Italiana di questi tre stati d'Italia. Il Trattato di Alleanza siglato all'inizio del 1859 prevedeva che 200.000 soldati francesi supportassero i 100.000 piemontesi e soprattutto che l'intervento francese scattasse solo in caso di ultimatum austriaco al Regno di Sardegna e non viceversa. Vediamo come sarebbe dovuta essere l'Italia secondo gli accordi di Polombieri in pratica divisione in tre stati lasciando intatto lo Stato Pontificio e firmiamo qui questa puntata di oggi e andremo a parlare del resto la prossima volta. No, no, continuiamo. Facciamo un'ultima slide e diciamo che dietro questo progetto di dividere l'Italia in tre stati c'erano due diversi progetti. Napoleone III voleva tenere sotto controllo l'Italia, Cavour che voleva fare l'unità d'Italia sotto il Piemonte, contava sulla forza del suo staterello, sulla sua capacità di attrarre gli altri stati e voleva averla vinta. Si giocava una partita importante e difficile e continuiamo come detto la prossima volta.